Buonasera a tutti quanti, questa notte sono 12 gradi, 12 gradi, alle ore e mezzanotte, 0 a 3 minuti, domenica 2 aprile 2023. Fa ancora caldo 12 gradi, officina 3.0, 4.0, non ricordo. Vi auguro una buona notte a tutti quanti, noi andiamo in palestra e ci sentiamo mani. Ciao a tutti, ciao ciao.